La cosa più importante è che si è riaspettato solo quello. Trocheranno 7 giorni di pura smissera, quindi non c'è nessuna top, e i qualificati sono 10, perché siete 68 partecipanti. Allora, quando riguarda le policy, è tutto scritto e rimarrà scritto fuori da questa sala, come vi dovrete comportare voi e come ci dovremo comportare noi? Non vi ruberemo nel tempo per dirvi pareggio, mica pareggio, e come vi dovrete comportare in salto. C'è una figura nuova all'interno di questa sala, che è la sicurezza. La sicurezza ci servirà, perché le condizioni meteo ci hanno provato di avere una situazione un po' strana. Sul balcone è possibile che si scivoli, non possiamo andarvi sempre tutti fuori, perché X mila motivi. Crister ci aiuterà a far decruire il traffico all'interno di questa sala, ma sono molto importanti, perché da soli non si attivate spesso. Per ricordarci che la propria visita è di emarca sul discorso italiano, ma soprattutto per ricordarci che in questa sala, mentre giocate a Yu-Gi-Oh! qua dal MVP Collective, si prende un attivino di rispetto per il gioco, per l'avversario, per lo stanza e per la sala in sé. Questa è una cosa che ogni tanto dimenticiamo. Ecco questo, io la so la parola all'attività e poi io la so la parola all'attività e poi io la so la parola all'attività. A tutti i nostri, il tempo è sport in alto, non tenete valuta in comando perché è sport in alto. Non fischi alla fine, lo diremo in gioco. Ragazzi, la torna è una veloce, una veloce, una veloce, una veloce. Sennò, possiamo iniziare. Lui, se vuoi essere. Quanto mi vuole si va? Potete iniziare?